Ciao, sono Rosario De Vincenzo e in questo video ti spiego l'importanza di una perizia econometrica. Due battute. La perizia econometrica è quel documento che ti serve per far sì che tu possa difenderti o in qualche modo sostenere un'azione giudiziale contro un istituto finanziario, quindi una banca piuttosto che una finanziaria. Quali sono gli elementi fondamentali di una perizia? Beh, sono tre, fondamentalmente sono tre e sono questi, cioè il primo, scusa, sono tre. Il primo è, deve essere chiara, cioè una perizia econometrica deve essere chiara, deve essere comprensibile sia da chi non ha nessuna competenza e sia da chi invece è esperto. Poi deve essere oggettiva, deve avere dei calcoli che siano replicabili, che siano di matematica finanziaria, per cui il risultato deve essere scientifico, non una cosa casuale, per cui se il risultato utilizzando delle formule di matematica finanziaria risultano essere dei tassi specifici, quei tassi devono essere assolutamente condivisibili. La terza è sostenibilità, cioè quella perizia deve essere sostenibile. Ciò significa che tu devi essere in grado di poter discutere tecnicamente di quella perizia in ogni sede competente, per cui in corso del primo giudizio, piuttosto che in corso di una CTU che è una consulenza di parte, il secondo grado e il terzo grado. Le perizie devono essere ben fatte, la strategia delle attività per anomalie finanziarie si basa su una perizia ben fatta. Ti spiegherò in un prossimo video come è importante fare la perizia. Intanto, se vuoi fare dei conteggi, vai sul sito, sulla mia pagina, clicca e fai dei conteggi gratuiti. Ci vediamo nel prossimo video, ti auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao!